buongiorno buongiorno oggi da una bellissima bologna piazza santo stefano a bologna allora oggi parliamo di motivi per cui un investitore che intende comprare casa all'estero dovrebbe affidarsi a un property finder ovvero sia un ricercatore di casa innanzitutto per un risparmio di tempo diventa piuttosto complicato per un investitore risparmiatore italiano andare a ricercare in tutti i siti anche dove i privati pubblicano immobili la casa adatta a lui quindi un risparmio di tempo seconda cosa il property finder è specializzato nel caso specifico negli investimenti immobiliari all'estero quindi è un consulente che conosce bene la materia conosce bene le tutele conosce bene eventualmente i correttivi che si possa adottare per limitare i rischi l'altissima specializzazione quindi un professionista che fa solo quello altro aspetto molto importante il property finder lavora su incarico di chi cerca casa e quindi tutela al 100% l'acquirente senza conflitti di interessi sia dal punto di vista della libertà di poter proporre un immobile in ogni angolo della terra perché comunque il professionista viene pagato e seconda cosa perché a differenza del più tradizionale agente immobiliare non deve mettere d'accordo le due parti ma deve esclusivamente tutelare e fare gli interessi di chi gli ha conferito il mandato ovvero sia chi sta per comprare casa questo si traduce anche in termini economici perché per l'investitore è un risparmio in quanto pagherà una commissione solo lui e conseguentemente spesso la commissione da parte quella che si avrebbe pagato chi vende viene sostanzialmente scontata quindi un risparmio di anche quattrini capite pertanto che risparmiare tempo e quattrini diventa elemento fondamentale interessantissimo abbinato all'alta specializzazione e all'assenza di conflitto di interessi sono elementi che mi permettono di dire con ragionevole sicurezza e certezza che l'acquisto di un immobile all'estero è decisamente più interessante e tutelato se fatto attraverso un property finder chiaramente anche qua sul mercato esistono professionisti di vario tipo vario livello che promettono varie monti invece altri che invece sono più realistici e sta poi all'investitore risparmiatore andare ad affidarsi al giusto professionista a riflessione velocissima tre minuti da bologna accetto le vostre considerazioni nostre critiche i vostri commenti e vi saluto e vi ringrazio per aver nuovamente dedicato del tempo a questo strip video al prossimo ciao